Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora oggi andiamo per Il Signore degli Anelli LCG a concludere quel lungo viaggio di analisi delle carte del ciclo, diciamo, del Creatore degli Anelli, che abbiamo iniziato ormai qualche mese fa. Andremo a concludere con The Antlered Crown, La Corona delle Corna, altro pack che introduce un eroe, a mio avviso, bomba, se così vogliamo dire, dopo aver visto Galadriel nel penultimo pack. Ci prenderemo poi qualche minuto alla fine per fare un po' una sintesi di quali sono i tratti, di quali sono gli eroi, di quali sono le carte principali introdotte con questo ciclo. Io vi ricordo, se vi piace il canale iscrivetevi, che è un modo semplice per farlo crescere, ma soprattutto andate a visitare il server Discord di Dovera Gondor, dove troverete tanti altri appassionati con cui dettagliare ed entrare, insomma, nei meandri di questo fantastico gioco. Allora, in questi giorni ho giocato con il mio amico Simone e il mio amico Leandro lo scenario L'Essere negli Abissi della campagna della Cerca Sogni. E, peraltro, è uno scenario molto divertente in multiplayer e nell'analizzare questo pack mi sono reso conto di quanto sarebbe stato utile avere molte di queste carte, che adesso andremo a vedere in uno scenario come quello, perché effettivamente questo pack, diciamo, di carte importanti, carte staple, carte che funzionano, ne introduce parecchie, a partire da, e quindi entriamo nei dettagli, da Erkenbrand, eroe della sfera viola, dal costo 10 di minaccia, 1, 2, 3, 4, molto divertente questo 1, 2, 3, 4, Rohan, guerriero, sentinella, fin tanto che Erkenbrand difende, guadagna risposta, fai un danno ad Erkenbrand per cancellare un effetto ombra appena triggerato, appena innescato. Ora, avete presente quel meme in cui si dice che c'è quello mino seduto che dice una frase e poi sottoscritto Change My Mind, ecco, la provocazione è che Erkenbrand è un migliore difensore di Beregond tattica, Change My Mind. Ora, al di là della battuta, noi siamo abituati, fin dal ciclo di Gondor, che quando necessitiamo di qualcuno che difende in maniera costante, con alta difesa, e che sia che voi giocate in multiplayer, sia che giocate in single player, sia un difensore affidabile, ci siamo sempre affidati a Beregond, con la sua difesa 4, contro il suo scudo gondoriano che gioca gratuitamente, arriva a difesa 6, è molto difficile effettivamente andare a bucare la sua difesa. Tuttavia, Erkenbrand, che si trova comunque all'interno di una sfera viola, che non è quella che combatte di più, ma ha al suo interno diversi attachment interessanti per Luper e per Erkenbrand stesso, sia, diciamo, in modalità progression, mi riferisco ai segnali Dunedain, sia invece, successivamente, quando entreremo nel dettaglio di delle Redmi, Trim, piuttosto che di cicli un po' più avanzati, ebbene, Erkenbrand ha questa capacità e abilità di andare a cancellare in maniera continuativa gli effetti ombra. Perché dico continuativa? Perché fin tanto che voi fate un danno, fin tanto che voi riuscite a curare in maniera affidabile con i soliti trick di self-preservation, Wardenovilling, Lembas, Herond, Glorfinder, qualsiasi carta, generalmente verde, vi permette di curare costantemente Erkenbrand, beh, insomma, gli dà una affidabilità di difesa che, secondo me, è anche maggiore di quella di Bergon. Vi faccio un esempio. Proprio in questi giorni, come dicevo, giocavamo l'Essere negli abissi. L'Essere negli abissi, a un certo punto della partita, senza fare troppi spoiler, ci sono tanti nemici che vi ingaggiano e tantissimi effetti ombra veramente brutti. Da, vi prendete un attacco in faccia contro il boss, un altro nemico vi ingaggia e gli si dà una carta ombra, un altro nemico aggiunto all'area dell'estimento, veramente, veramente devastanti. E, come battuta, dicevamo, beh, forse avremmo dovuto, a fine partita, avremmo dovuto aggiungere qualche hasty stroke, no? Il principale evento di cancellazione delle ombre. Il problema è che in un'avventura come quella, dove ogni turno di combattimento ha i 3, 4, 5 ombre che fanno male, l'hasty stroke, insomma, da un lato si corre il rischio di non usarlo perché si pensa che arrivi qualcos'altro, dall'altro, una volta che è usato, è finito. Erkebrand, invece, ha la capacità di cancellare, per ogni attacco che para, l'effetto ombra. Ora, un aspetto regolistico importante è che la cancellazione dell'effetto ombra si ha se effettivamente il danno di Erkebrand viene preso. Per esempio, penso all'elmo ali di corvo del ciclo di Angmar, che vi permette di cancellare un danno appena inflitto a un personaggio con sentinella, oppure la stessa guardia di onore di Gondor e così via, no, il danno dovete infliggerlo per cancellare l'effetto ombra. Ma molto spesso il poter deterministicamente sapere che un attacco non vi ucciderà il difensore è generalmente la chiave per poter affrontare le fasi di combattimento. Voi avete un nemico che attacca a 4, anche se c'è un effetto ombra sapete che prenderete un danno di attacco più eventualmente il danno dell'effetto ombra. Chiaramente dove Erkebrand funziona al suo meglio, dove, come dicevamo, abbiamo una costante cura, e si ottiene tramite tutte le carte verdi e non solo, e dove, per esempio, andiamo a, diciamo, bustargli quella che è la difesa. Torniamo indietro al ciclo di Boss 4 con i Dunedine Warning che semplicemente gli bustano la difesa, beh, insomma, quando il nostro Erkebrand comincia ad avere una difesa che non è più 3, ma magari 4, magari 5, e la capacità di cancellare costantemente gli effetti ombra, beh, insomma, capite bene che dice il suo perché. Man mano che il pool si espande, per esempio, lo sbergo di maglia che si attacca a un personaggio Deilo Guerriero, arriverà nel ciclo delle Red Mitrim, darà al personaggio più uno e più un hit point, quindi più un punto vita se il personaggio ha la parola chiave sentinella. Se no, arriveremo anche all'Ancestral Armor, che è vero che costa 4, è vero che è limitato e uno per personaggio, ma può essere attaccato a un personaggio viola o nobile, prende, questo personaggio prende più 2 alla difesa più 2 hit point. Quindi insomma, change my mind, cioè è vero che Beregon siamo abituati a buildarlo con lo scudo, con la corazza, con la picca e così via, ma la capacità di Erkebrand di cancellare costantemente effetti ombre e ovviamente di essere sentinella e di trovarsi comunque all'interno di una sfera in cui di attachment e difensivi ce ne sono, penso anche al destiliero corazzato dalla cerca sogni, beh, rendono di questo eroe davvero a mio avviso una perla tra gli eroi che escono in questo ciclo e più in generale tra tutti gli eroi. Immaginatevi anche tematicamente è il felm della cerca sogni, che è quello che busta la difesa se un personaggio ha una cavalcatura aggregata, con l'armored destilio e quindi col destiliero corazzato, già naturalmente Erkebrand para due volte, scarta le ombre, ha più 1 alla difesa, insomma diventa davvero davvero forte. Io se dovessi proprio al fine della fiera fare una scelta tra Beregond Rosso e Erkebrand starei su Erkebrand, forse me la giocherei in maniera, come dire, più tirata con Beregond Azzurro che uscirà con l'espansione saga del Ritorno del Re, ma ci arriveremo, no? Quindi eroe assolutamente, a mio avviso fortissimo, peccato che i giocatori della seconda era non l'abbiano in effetti avuto, poiché diciamo al pari di Beregond davvero vi offre la possibilità di avere un eroe costantemente in grado di parare, costantemente in grado di cancellare gli effetti ombra e più in generale vi da una sicurezza in gioco davvero notevole. Per cui benvenuto Erkebrand nel nostro pool di carte perché, come dire, oltre a essere una valida alternativa a Beregond, lo è anche all'interno di una sfera diversa, ha dei tratti, in particolare Roan diverso, per cui può funzionare in certe tipologie di archetipi. Per cui ben fatto questo Erkebrand. Tra l'altro per chi non lo conosce Erkebrand è un personaggio che compare nelle due torri il libro e che sostanzialmente è stato un po', non è stato, non sostanzialmente, è stato tagliato nel film. Erkebrand è colui che, infatti la citazione dice «Down from the hills, lipped Erkebrand, Lord of Twestfold», è il Lord dell'Ovestfald, il Signore dell'Ovestfald, è quello che giunge col suo scudo rosso all'alba ad aiutare gli assediati del Fosso di Elm. Quindi, insomma, è anche un personaggio interessante, sicuramente non iconico come potrebbe essere un Theoden o un Eomer, ma è un personaggio davvero... e anche l'illustrazione, devo dire, molto bella, insomma, è un personaggio davvero valido che accogliamo con molto piacere nel nostro pool di carte. Sempre tematicamente si aggiunge il Guardiano del Fosso di Elm, il Warden of Elm's Deep, che è un alleato Rohan, Sentinella, Guerriero, dal costo 3, 0, 1, 3, 2. Allora, sicuramente lui dobbiamo confrontarlo con il nostro amico difensore del Ramnas. Voi sapete che io sono un grande fan del difensore del Ramnas perché con solo due risorse tattiche, diciamo, riusciamo a mettere un difensore molto valido. Questo costa 3, quindi è di più, è all'interno di una sfera che, diciamo, non soffre così tanto, il pagare di più le carte, e quindi questo è un suo punto di vantaggio. Ha un punto in meno di difesa, ma un punto in più di vita. E inoltre, rispetto al difensore del Ramnas, ha Sentinella, il che ovviamente non ha senso, cioè non ha senso, non serve particolarmente in True Solo, ma può avere il suo vantaggio in Multiplayer. Ora, è anche un Guerriero, quindi questo aiuta per certe tipologie di Attac, un Attachment come in Raiment of War. Ora, io ho confesso che questa carta non l'ho usata tantissimo. Non l'ho usata tantissimo perché se ho bisogno di difesa nel viola uso Erkebrand, generalmente busto con i segnali dune da negli eroi, tuttavia, riguardandola con occhi così più maturi di questo gioco, in realtà questa carta non è così male. Perché? Qualora un nemico con forza quattro attacchi, di fatto, lui ha la stessa possibilità di vivere di un difensore del Ramnas. Perché se il difensore del Ramnas, se il nemico prende più uno, il difensore del Ramnas muore, ma se anche se lo stesso nemico prende più uno, anche il Warden of Elms Deep muore. Per cui la probabilità, diciamo, è la stessa. Qual è il vantaggio? Il fatto di avere un punto vita in più. E, come ben sappiamo, esistono degli effetti ombra, mi vengono in mente i nanosterro, ma anche in altri, che gira carta ombra e dici, oh mannaggia, infligge un danno al personaggio difensore. Che cosa succede? Che lì, in quel caso lì, tu potresti parare anche un attacco 2 con i 4 del difensore del Ramnas, ma, poiché gli infliggi il danno come effetto ombra, il difensore del Ramnas è ucciso e magari l'attacco è incontrastato con tutte le ovvie e negative conseguenze del caso, no? Chiaramente il Warden of Elms Deep non ha questo problema, perché può comunque avere un punto ferita in più. Quindi, come dire, che se fosse costato 2 sarebbe stato oggettivamente troppo poco. Perché? Perché un alleato dal costo 2 con difesa 3, due punti ferita, sentinella oggettivamente per 2 all'interno della sfera viola, sarebbe costato troppo poco. 3 forse è troppo. Diciamo che un 2,5 è quello che io sarei disposto a pagare per mettere questo Warden of Elms Deep al posto del difensore del Ramnas e questo è anche il motivo per cui io non l'ho mai veramente troppo giocato, un po' perché l'aspetto sentinella non è che serva granché. Però, diciamo, ha un occhio un pochino più esperto, mi viene da dire che questo è comunque un pezzo che, oltre a essere, se vogliamo, tematico in quanto difensore del Fosso di Elm, ha un suo perché come alleato difensivo. soprattutto se riuscite a boostargli in qualche modo la difesa e i punti ferita, per esempio prendiamo l'appena vista Osbergo di Maglia che può essere attaccata a un personaggio guerriero e gli da più uno alla difesa e più uno al punto vita, beh, se con l'Osbergo di Maglia riuscite a giocarlo sul Warden capite bene che voi magari pagate 4, però avete un difensore con 4 di scudo, 3 punti vita, sentinella, che potete in maniera costante andare a curare magari col solito vecchio caro guardiano l'Uordeno Wheeling e così via. Quindi tutto sommato è una carta abbastanza solida, mi spiace non averla usata troppo, la userei probabilmente di più in multiplayer, però ha il suo perché, specialmente quando gli effetti ombra sono, come dire, rischiosi per quello che a mio avviso è l'alternativa principale in questo pool, che sono i difensori del Ravnas. Ultimo veloce pensiero, se abbiamo modo di scontare il Warden of Elms Deep grazie per esempio all'abilità di Theoden, beh allora diventa davvero una validissima alternativa a quello che è il difensore del Ravnas. Quindi insomma, devo dire che col tempo è un alleato che in qualche modo rivaluto e diciamo se si gioca intorno può essere una validità alternativa in un colore diverso a il nostro caro amico difensore del Ravnas. La seconda carta viola che arriva è The Days Rising, che è una carta song unica, interessante, con la parola chiave, scusate, della sfera viola appunto, che dice aggregala un eroe con sentinella. Non ci sono tanti eroi con sentinella, però, come dire, questo è la sua restrizione. Risposta, dopo che l'eroe difende contro un attacco e non prende danni mentre difende quell'attacco, esaurisci e il sole sorgerà, The Days Rising, per aggiungere una risorsa al pool di quell'eroe. Ora, questa è una carta interessante. Io spesso quando ho eroi sentinella, che vado a buildare con difesa alta, sia che giochi in trusolo, sia che giochi in multiplayer e gioco alla sfera viola, un 1 per di questo ce la metto sempre, perché sostanzialmente nel momento in cui voi andrete a giocare, pagate 1, il primo attacco che riceverete vi ripaga quella carta e poi può essere costantemente una carta che vi aggiunge risorse. È chiaro che questo è limitato a una volta, perché non è che il Beregon che ha su quattro coraggi inaspettati ogni volta vi aggiunge una risorsa, perché dovete esaurirla. Però, in generale, una carta che, come dire, non in 3x, io non metto in 3x, ma in 1x è una carta molto valida. Come, tra l'altro, sarà il capitano di Gondor, cioè la prossima, sono quelle carte che costano poco, che sono uniche, quindi non ha senso, cioè non è che non ha senso, sono uniche ed hanno un effetto buono, ma non, come dire, dirompente all'interno della partita, che io volentieri metto in 1x. Chi sono i bersagli principali? Ovviamente tutti gli eroi con sentinella che hanno difesa alta. Perché? Perché prendersi danni non triggererebbe il Days Rising, no? Quindi Beregon, lo stesso Erkebrand, eventualmente Aragorn con i segnali dune da imbustati, Theoden, se riesco in qualche modo a bustargli la difesa e così via. No, non sono tantissimi, ci sono, non sono tantissimi. È interessante, per esempio, associarlo all'erede di Mardil, quell'attachment che abbiamo visto nel pack precedente del Segreto di Celebrimbor, che si attacca un eroe nobile. Ora, qui la restrizione è estremamente, come dire, limitata. Però, se doveste trovarvi ad avere un eroe nobile, sentinella, che difende con costanza, non sono tanti, ripeto, lo stesso Beregon, per esempio, non è nobile. Lo stesso Erkebrand non è nobile. Però, diciamo, ben detto Aragorn, ben detto Theoden, Kimli, nella sua versione viola, diciamo, supponiamo di avere questo binomio di eroe sentinella nobile, beh, allora che cosa succede? Che voi parate, non prendete danno, aggiungete una risorsa e poi, grazie all'erede di Mardil, poiché avete ottenuto una risorsa, stappate l'eroe. Quindi, al costo, come dire, diciamola così, di due viola e di due carte, ovviamente, ho un coraggio inaspettato su un difensore sentinella nobile che non solo me lo stappa, ma gli fa anche ottenere una risorsa. Ovviamente è un po' più difficile che questo avvenga perché non devi prendere danni, perché devi avere due carte, perché deve essere nobile. Cioè, ci sono un po' di paletti, però immaginatela su uno dei pezzi che un Aragorn volete, per via del vostro party, per via di vari motivi, lo buildate, lo costruite come difensore con sentinella nobile, può essere sicuramente una carta interessante. Altra carta che, a mio avviso, è molto interessante e rientra un po' come quel Days Rising, cioè quelle carte a costo 1, uniche, che in qualche modo male non fanno, è il Captain of Gondor. Il Capitano di Gondor, che tra l'altro è stato ristampato nella Revised, è un titolo, dal costo 1 della sfera tattica, da aggregare a un eroe guerriero, quindi anche qui ovviamente solo un eroe guerriero, risposta, dopo che ingaggia opzionalmente un nemico, esaurisce il Capitano di Gondor per dare a quell'eroe più 1 all'attacco e più 1 alla difesa fino alla fine del round. Ora, questa è una carta molto interessante, perché supponiamo di avere Beregond, Beregond magari ha il suo scudo di Gondor, ingaggiato un nemico e per un solo punto gli date più 1 alla difesa. Immaginiamo di avere il Boromir Rosso, quello dei ciclo di Boscoatro, che non è stato ristampato, almeno al momento della registrazione del video, nella Revised, che è un gondoriano nobile guerriero, quindi ha tutti quei tratti ideali per, diciamo, l'erede di Mardil, per lo scudo di Gondor e così via, che sostanzialmente, immaginiamoci questo Boromir, con uno scudo di Gondor che si ingaggia opzionalmente un nemico, quindi ingaggi un nemico, difendi a 5 perché hai ottenuto più 1, stappi Boromir, aumentando di 1 la minaccia e attacchi a 4. Il tutto con un unico attachment, che è lo scudo. Se poi adesso ci andiamo a mettere una qualsiasi spada, beh, capite che, insomma, diventa un personaggio che, Boromir lo conosciamo, che fa, insomma, da solo la fase di combattimento di fatto, cioè ingaggia un nemico, lo para con una difesa alta e lo attacca con un attacco alto. Quindi, Boromir, ma tanti altri, io mi trovo molto spesso a giocare questa carta quando ho un eroe guerriero. Anche se magari non è un eroe che para o che attacca sempre con costanza, però ha la grossa vantaggio che uno per uno, cioè sostanzialmente, vale quel principio per cui, perché la Daga dell'Ovesturia o la Lancia di Rohan o l'Arco dei Galadrim sono utili? Perché io spendo uno per uno, no? Più, se soddisfo le condizioni, è un uno per due. Normalmente, qual è lo svantaggio? Che queste sono limitate. Cosa mi riferisco a per due? Tipicamente all'attacco, no? Cioè l'Arco dei Galadrim ti dice l'eroe con questa giunta ottiene più uno all'attacco, più due se attacca un nemico non ingaggiato con te. L'Ama dell'Ovesturia ti dice l'eroe con questa giunta ottiene più uno all'attacco, più due se il nemico ha una minaccia più alta di te, e così via. Quindi sono carte utili perché io pago uno per avere uno sicuramente più un potenziale due di attacco. Lo svantaggio è che sono limitate, quindi più di due non ne possiamo mettere. Non possiamo dare a Bormir sei lame dell'Ovesturia o sei scudi di Gondor o tre tre. Il vantaggio di Captain of Gondor è il fatto che questo non è limitato e quindi di conseguenza può andare a incrementare le capacità del tuo e del proprio eroe senza occupare slot limitati. Ovviamente è riferito ai guerrieri, devi ingaggiarlo opzionalmente per cui nemici che attaccano dall'area di allestimento o che ti ingaggiano senza che li hai ingaggiati opzionalmente e così via non triggerano questo effetto. Però questa è una carta che non metterei in tre per, ma spesso se ho un guerriero, un eroe guerriero, io ho volentieri uno per ce la vado a mettere. Quindi, come dire, anche questa la accogliamo piacevolmente nel nostro pool di carte. Per ora stiamo guardando tutte carte davvero molto carine, molto utili, che possono incrementare le nostre possibilità di battere il mazzo incontri. Diciamo a conclusione anche del percorso degli Ant, che viene un po' introdotto con questo ciclo e poi potenziato con le due torri e così via, abbiamo il Booming Ant, l'Ant Furioso, che è un alleato dal costo 2 della sfera tattica 0-2-2-3. Quindi, come dire, rispetto al Wondering Ant ha delle statistiche un po' peggiori. Ovviamente, essendo un Ant, non può avere giunte con limitate e entra in gioco esaurito, ma il Booming Ant prende più uno per ogni Ant danneggiato che controlli. Ora, fra ogni personaggio è Ant danneggiato che controlli. Ora, io ho visto i Booming Ant attaccare a 6, a 7, perché è tipico dei mazzi Ant andare a swarmare Ant, cioè a metterne giù 3, 4, 5, 6, 7. Se in quest con arceri, se prendete degli attacchi, se lo stesso Barbalbero delle due torri prende dei danni volontariamente, se lo stesso Quick Bean delle due torri entra in gioco con un danno e così via, è molto facile che vi ritroviate ad avere dei personaggi Ant danneggiati. E il Booming Ant, conta anche se stesso, è facile che in tempo zero diventi una macchina, cioè un Ant che va ad attaccare a 5, a 6, a 7. li ho visti, li ho usati spesso, quindi di conseguenza, insomma, sono molto fattibili. e, come dire, diventa una carta fondamentale all'interno dell'archetipo Ant e anche qui, come dissi in precedenza, sul precedente Ant in Viaggio, sono contento che l'abbiamo stampata come... insomma, che è stata data come carta promo ai vari nostri eventi, perché non è accessibile ai giocatori della seconda era questa carta. vi aiuta a costruire un mazzo Ant che sia sicuramente forte e affidabile. Ovviamente i mazzi Ant ruotano intorno ai due colori principali dentro cui ci sono gli Ant, cioè il verde e il rosso. Ma, insomma, è vero che vi manca l'azzurro, è vero che vi manca il viola, ma è anche vero che se riuscite costantemente turno dopo turno a mettere giù Ant, 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 avrete una partenza sicuramente lenta, ma un late game davvero devastante. Quindi, altra carta utilissima che accogliamo con piacere e che rende l'archetipo Ant, come dire, ridotto nelle carte, ma sicuramente molto forte e molto utile. Per quanto riguarda lo spirito, invece, abbiamo due carte particolari. La prima è il Ride Them Down, un evento a costo 2, azione di quest, quindi ci siamo già di fronte a molte restrizioni. Un evento, costa 2, una quest action, che dice Scegli un nemico non unico nell'area di allestimento. Fino alla fine della fase, i progressi che dovrebbero essere piazzati sulla quest dall'aver questato con successo, sono invece assegnati come danni al nemico scelto. I progress devono essere prima piazzati su qualsiasi location attiva. Ora, questa non è una carta che io metterei in ogni mazzo, assolutamente, ma in mazzi che questano enormemente. E in avventure in cui ci sono nemici veramente tosti, ma senza andare lontano, il troll delle colline, piuttosto che i Mumak, piuttosto che i Nazgul, piuttosto che le navi, nemici, diciamo, non goblin o nulla di anni, ma nemici grossi, questa carta può davvero essere molto utile. Sia perché esistono varie quest in cui non serve, non è possibile mettere progress sulla quest principale, per cui vincete di otto il luogo attivo a due punti, sei li sprecate. E questi invece si trasformano in danni a un nemico. Quindi sia in quel caso lì, sia nel caso in cui invece avete un nemico particolarmente grosso in area di allestimento e non avete la forza di vincere il combattimento, lo potete andare a far fuori. Tra l'altro il vantaggio qui è che sono inflitti come danni e il nemico non è scartato. Quindi, diciamo, nel caso del Mumak, questo non funziona perché i Mumak contro l'ombra, ma anche di quelli delle due torri, non possono prendere più di un tot di danni ogni turno. Quindi questa carta, se voi gli fate sei danni, ne può prendere tre, ne prenderà solo tre. Non è come per dire per chi la conosce, il The Great Hunt che scarta un nemico in area di allestimento. Ok, però il vantaggio è che il nemico è distrutto se lo fate fuori, non è scartato. E questo può avere un senso per varie carte, come, non lo so, mi viene in mente la Secret Vigile del ciclo di Hangmar, piuttosto che altri vantaggi in cui se hai distrutto un nemico fai cose, no? In questo caso, altrimenti se il nemico fosse scartato non le faresti. Un altro aspetto interessante è che voi potete, se fate scry del mazzo incontri, sapere che cosa vi aspetta e magari destinare tutti i personaggi all'impresa, alla ricerca, perché tanto sapete di quanto andate a vincere, oppure conoscete il mazzo incontri e sapete che potranno uscire... Insomma, potete essere ragionevolmente certi di andare all-in nella quest se conoscete il mazzo incontri, perché magari avete un valore di ingaggio più basso del nemico minimo che potrebbe uscire. Possono esserci fare i motivi per cui dite vado all-in perché tanto tutti i progressi extra li vado a buttare come danni su un nemico non unico, ovviamente, quindi generalmente non un boss, in area di allestimento. Non l'ho usato tantissimo, mi ha sempre affascinato anche per la tematicità del Ride Them Down, quindi, insomma, della carica dei cavalieri di Rohan. È utile, tra l'altro, con l'archetipo Rohan che cuesta molto, che si trova all'interno della sfera azzurro con le famose questatrici, tipo la Horse Breeders, piuttosto che la Levatrice dell'Ovest Vald, piuttosto che la Viaggiatrice della Via dell'Ovest e così via, no? Quindi è sinergico con questo, non l'ho usato tantissimo, ma ne intravedo la possibilità. Può essere una bella carta tech in alcune avventure che volete affrontare magari con tanto quest e tanto willpower, ma che hanno dei nemici ostici, magari e soprattutto ad alta minaccia che rimangono in area dell'estimento, che volete far fuori con una Ride Them Down giocata al momento giusto. Un altro evento all'interno della sfera azzurra è il Shadows Giveaway, un evento a costo 3, che devi usare risorse da 3 eroi differenti per pagare questa carta, quindi, insomma, abbastanza impegnativo come costo e come restrizioni. Azione scarta ogni carta ombra da ogni nemico in gioco. L'effetto ovviamente è incredibile, tanto più incredibile in multiplayer, e mi viene in mente ancora una volta quella partita fatta sull'Essere degli Abissi, dove a un certo punto ci siamo trovati con 5, 6, 7 nemici ingaggiati, 5, 6, 7 carte ombra, carte ombra brutte che facevano fare altri attacchi, che sponavano altri nemici e così via. Giocare questa carta trasforma la fase di combattimento da incubo in una passeggiata di salute. Certo, il costo da pagare è alto, perché 3 di evento vuol dire che per quel turno non fate niente, tutti bisogna pagare dal pool di 3 risorse diverse. Il vantaggio è che potete usare carte come la Song of Travel o anche la Good Harvest per usare questa carta. Cioè, nel senso, non ha quella limitazione per cui ogni eroe deve appartenere alla sfera azzurra, ma dovete pagare da 3 differenti eroi questa carta. Quindi, come dire, la limitazione è un pochino meno aggressiva in questo senso. Mi è capitata di usarla, è molto bella da usare, soprattutto in certe avventure. Penso anche a quella di Smaug, dove Smaug continua ad attaccare finché arriva la carta ombra di un certo tipo, invece scartandole si risolve il problema alla radice. È gravosa, da giocare abbastanza gravosa. Probabilmente con un costo 2 sarebbe stata ben più abbordabile. È una carta fortissima, dirompente nell'economia della partita, per carità. Però è difficile da giocare, molto difficile da giocare, da prendere in considerazione solo se in un multiplayer importante, quindi probabilmente non in due giocatori, ma in tre o in quattro, avete un mazzo monospirito o con una Galadriel, che quindi, sì, una Galadriel che magari vi fa anche da verde, ma avete tre eroi azzurri, piuttosto che, non lo so, Norio, no, 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 Oin, che è un eroe azzurro e vi fa anche da rosso. Cioè, dovete avere un'efficace generazione di risorse azzurre per ogni eroe, perché altrimenti non la potete giocare. Potrebbe anche non far parte degli mazzi monospirito, però generalmente il senso è che sia in mazzi come quelli. Che funzionano, è un multiplayer in quattro giocatori, un monospirito che questa è fortissimo, fondamentale, quindi non è impossibile da giocare, però deve essere un multiplayer un po' studiato anche per trovare spazio in questa carta. Altrimenti, ovviamente, spendere tre risorse per scartare una carta ombra, due carte ombra, insomma, ci sono modi più efficaci per farlo. Penso ad Erkebrand, penso alla Burning Brand, penso ad altre carte, insomma, che in qualche modo fanno questo, essendo meno dispendiose in maniera costante e ottengono lo stesso effetto. Carta comunque valida, non è una brutta carta. Carta che invece forse è un po' quella, diciamo, più meh, se così si può dire, del pack, è il Don't Be Husty, non avere fretta. Risposta, è un evento a costo zero verde. Quando una carta incontro è rivelata, ma prima di aver risolto le keywords su quella carta, quindi impulso, condanna, o gli effetti quando rivelata, sceglie un personaggio committato alla quest, stappa quel personaggio e rimuovilo dal gioco. Allora, questa è una carta che, se vogliamo, l'aspetto non è neanche così malvagio, cioè, vedi una trecce ribrutta che vi verrebbe fuori un eroe, tenete indietro, togliete l'eroe dalla quest. Oppure, non sapete se questa carta, non sapete quello che vi aspetta in fase di combattimento, sapete che vorreste spingere con gli eroi per mettere dei progress, ma se esce un nemico avete bisogno di un difensore, quindi andate all in, poi esce quel nemico, togliete questa carta. Oppure, cioè, togliete l'eroe con questa carta. Oppure, andate all in, state vincendo di cinque, dovreste mettere quattro progress sul luogo attivo, esce una carta che vi aspettavate di minaccia 3, a minaccia 1, quindi, o esce una trecceri, quindi non vi serve, per esempio, quell'eroe che aveva il power 1 e difesa 4, lo tirate fuori dalla quest e vi fa da difensore, no? Sì, tutto bellissimo, però poi di fatto state usando una carta per un qualcosa che potrebbe funzionare, potreste tenere indietro l'eroe e non mandarlo, cioè, come dire, ne capisco il senso, ne capisco l'idea, sarebbe stato carino se questa carta fosse, scegli un personaggio committato alla quest, stappa quel personaggio, punto. Non lo rimuovi dalla quest, oppure scegli se rimuoverò dalla quest, oppure no. Così vi dava la flessibilità di essere una carta, magari one shot, che vi dava action advantage, e così via. Altrimenti, così devo dire che la vedo difficile da usare, se devo dire la verità, abbastanza difficile da usare. Io l'ho usata poco, e tra l'altro anche, mi sembra, in uno dei card of the day che facciamo ogni giorno sul server Discord, quando è uscita, insomma, ha lasciato piuttosto freddi le persone come commenti a questa carta, no. Spostiamoci quindi verso le cascate, i Waters of Nimrodel, che è un evento, costo 3, 2,3 della sfera verde, molto impegnativo, ovviamente, 3,2,3 è molto impegnativo, azione, cura tutti i danni, su ogni personaggio in gioco. Altra carta che, se usate per curare un danno, non ha senso, ma se, in 4 giocatori, siete verso il late game, e usate questa carta, per curare 25 danni, e l'ho visto succedere, beh, allora capite bene che, il suo impatto può essere molto forte, sempre pensando all'essere negli abissi, c'era a un certo punto un mostro che attaccava a 8, e che dopo l'attacco, splashava, cioè buttava in giro 6 danni, tra gli alleati e gli eroi, e quello lì, insomma, era anche duro da buttar giù, ogni volta che attaccava, bisognava sacrificarci un alleato, perché 8 era una difesa molto alta, e in più bisognava dare 6 danni in giro, che si, va bene, ne dai un po' agli eroi, ne dai un po' agli alleati a costo 2, con 2 punti ferita, eh, però, fai una volta, fai 2, poi dopo cominci a non avere più il board, no? Una carta come questa, giocata in quel momento della partita, quando si era ancora sotto minaccia 40, si era vicino al late game, e un doom and 3, non sarebbe stato un grande problema, magari andava a curare, tutta una serie di danni, che avrebbero reso, la partita sicuramente più semplice, quindi, carta forte, da usare assolutamente in un multiplayer molto spinto, perché il costo è alto, sia come risorse, che come doom and, però può essere determinante, per affrontare una fase di combat, eh, come dire, anche prendendo degli incontrastati, anche parando con degli alleati, e così via, che altrimenti sarebbe difficile da poter gestire, quindi questa è una carta, una bella bombetta, è giocata al momento giusto, anzi, chi se, chi si, chi vede il video, mi dica quanti danni è riuscito a curare, con questa carta, che vediamo un po', se ci sono commenti, e quanto arriviamo, secondo me, il multiplayer, può anche arrivare a curare 25 danni, proprio facilmente, quindi, carta veramente forte, di rompente, l'ultima carta dell'intero ciclo, se vogliamo, di questo pack, e carta che, in questo caso, è veramente last but not least, è barbalbero, barbalbero, nella sua versione alleato, costa 4 neutrali, 2, 4, 3, 5, cioè stiamo parlando di statistiche, che fanno 6, 9, 14, cioè pagate 4, per mettere 14 sul board, è un ente, non può avere attunce limitate, entra in gioco esaurito, e colleziona una risorsa, ogni fase di risorsa, queste risorse, possono essere usate, per pagare le carte ente, dalla tua mano, azione, paga 2 risorse, dal pool di barbalbero, per stappare, un personaggio ente, ora barbalbero, è una carta che, non sbaglierete mai, a metterla in ogni mazzo, perché è vero che costa 4, e qui sono contenti, i contratti, i mazzi, basati sul bond of friendships, cioè quel contratto, che vi fa usare 4 eroi, ci arriveremo quando parleremo, del ciclo di Mordor, ma, cioè, ok, lo mettete giù, e non vi funziona, per un turno, quindi per un turno investite, ok, mi va bene, però poi avete, un alleato che cuesta 2, attacca 4, difende 3, ha 5 punti ferita, e che ogni due turni, alla peggio, si stappa, si stappa se avete bisogno, in più, può anche pagare, per gli ente, quindi, se ci mettete gli ente, barbalbero diventa, a tutti gli effetti, un eroe, che vi serve per pagare gli ente, con le sue risorse, ma, se anche, non avete gli ente, barbalbero accumula risorse, e nei momenti chiave, della partita, può, parare per 3, e può attaccare per 4, può attaccare due volte, due nemici diversi, può andare in queste, e stapparsi, cioè, davvero, è una carta fortissima, che, se anche non avesse, diciamo, se anche il, il, il testo, si fermasse a, tribeard, cioè, barbalbero, entra in gioco esaurito, sarebbe fortissima, in più, colleziona una risorsa, con cui si possono pagare, gli ente, e con cui, eh, potete anche stapparlo, cioè, tra l'altro, nota bene, nota bene, potete stappare, lui, o anche un altro ente, eh, penso all'eroe ente, quick bin, penso a, all'ent furioso, che abbiamo visto in precedenza, che attacca sette, e l'ho fatto attaccare due volte, cioè, diventa una carta, clamorosa, fortissima, peccato che i giocatori della seconda era, non ne hanno a disposizione, ma anche qui, è una di quelle che abbiamo, scelto come promo, per gli eventi, perché è davvero, è una, una bomba, questa carta è una bomba, immaginatevi, magari, giocarla scontata, perché, eh, giocate la richiesta d'aiuto, di Angmar, perché giocate la gemma, ma è elfica, eh, dell'espansione, della compagnia dell'anello, insomma, cioè, veramente, Barbalber è una carta, fortissima, che secondo me, non sbagliate mai, anche se fate un mazzo, Dale, o anche se fate un mazzo, Nani, a giocarla in uno per, perché quando la pescate, è sicuramente, una validissima alternativa, certo, non entra subito a mille, questo può essere un svantaggio, per il Trusolo, dove vi è richiesto subito, di entrare a mille, però, come dire, se riuscite a giocarli, in early middle game, poi ne ha un valore, che mettete sul piatto, o delle statistiche, che sono, molto superiori, a quelle della maggior parte, degli eroi, anzi, dunque, Aragorn ha 2, 3, 2, 5, questo ha 2, 4, 3, 5, scusate, Aragorn ha 2, 3, 2, 5, Barbalbero ha 2, 4, 3, 5, quindi ha un punto di attacco in più, e un punto di difesa in più, di cosa stiamo parlando, è incredibile, e fortissimo, bene, prima di concludere il video, andiamo velocemente a rivedere, così, un po' le carte che sono uscite, per farci un'idea di questo ciclo, no? C'era Eomer, con la sua enorme capacità di attaccare, Grima, carta, siccome è utilissima, che ho usato molto anche nella progression, l'alleato Saruman con quel doomed, e quella capacità di blancare un nemico per la fase, varie, come dire, keyword legate al doomed, come il messaggero, la Roar Tank Guard, il Westfall Outrider, fortissimo, che si scarta per ingaggiare un nemico, l'Horse Breeder, che vi feccia le cavalcature, il Rowan Horse, per stappare un eroe tattica, dopo che ha distrutto un nemico, la Silver Lamp, qui vedete le carte ombre, le chiavi di Orthank con Grima, la Legacy of Numenor, evento doomed, che vi dà un boost incredibile, la Deep Knowledge, che è tanto cara al mio amico Rodolfo, che vi fa pescare, il Power of Orthank, che vi permette di rimuovere condizioni, anche al di fuori della sfera verde, e queste erano le cose che abbiamo visto nella Deluxe, e poi invece, andando a vedere il ciclo vero e proprio, avevamo Mablung, ottimo eroe, o il Season da portarsi sempre negli eventi, perché è utile quando ingaggiate, l'Arciera di Galadon, Rumil, l'Arco dei Galadrim, Firefoot, l'Hent Furioso, il Capitano di Gondor, le sto un po' ripassando insieme, poi Galadriel, carta incredibile, Idraen, che aggiungiamo un Dunedan alla sfera azzurra, il Blue Mountain Trader, che vi permette di spostare risorse, il Seldoin Traveler, che torna con la parola Secrecy, la Galadrisen Maiden, carta incredibile, staple della sfera azzurra, lo specchio di Galadriel, l'Orden of Arnor, che vi fa mettere segnalini, gli eventi Silvani, che vi fanno riprendere in mano i Silvani, poi ci spostiamo verso il Viola, Celeborn, staple per i Silvani ed Erkbrand, incredibile difensore, con varie carte, sia Silvano, che Olorien, che è la Fainhead Voice, che diventa una finta dei Silvani all'interno della sfera Viola, Aldir di Olorien, fortissimo, per attaccare i nemici con cui, se non ingaggi, che potenziamo con l'arco di Galadrim, il Ministre Galadrim, il Wondering Ant, il Mantello di Lorien, il Lembas, il Tree People, evento principale per riprendere in mano i Silvani e giocarne altri, e infine poi le carte neutrali, con Barbalbero, il difensore del Knight, Nenia ovviamente, e altre come il White Council, quindi diciamo che di carne al fuoco, ce n'è parecchia, è un ciclo che mi sono anche divertito a rigiocarlo, quindi se volete andatevi a vedere, il True Solo Progression, che trovate sul canale, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, questo insieme di video vi sia piaciuto, vi ricordo se vi piace il canale, di iscrivervi, di commentare, di mettere like ai video, che è un modo per far crescere il canale, e in definitiva anche la community, con l'analisi delle carte, ci aggiorneremo più avanti con altre box, altri cicli, io vi ringrazio, ciao, alla prossima.